Ci vediamo spesso con Gerardi in Mixed Zone, la prima volta va bene per conoscerci, ora perché segnate il gol a conti fatti fondamentali? Sì, sono contentissimo perché ho bloccato la partita, poi all'esordio titolare ci voleva una bella emozione. Partiamo dal calcio d'angolo che ti ha battuto Pompetti. Ne avevamo parlato prima della partita, io ho detto di metterla morbida, che me l'andavo a cercare io, mi ha ascoltato bene, l'aveva battuto uno subito, solo che era un po' corto e il secondo sono riuscito subito a impattarla. Io ti chiedo due cose perché dall'alto della tua esperienza non puoi non risponderci. Nel primo tempo Spalluto vi ha preso le spalle ed è stato bravo Sorrentino in uscita, al 44esimo ha fatto il miracolo Sorrentino su un'azione fotocopia, cosa avete sbagliato? Forse un po' il dialogo, dovevo chiamargli la palla a Drudi così scappava lui, però penso che in una partita di 90 minuti ci sono anche gli avversari, bisogna stare concentrati sicuramente tutto il tempo ma abbiamo concesso pochissimo, per fortuna Sorrentino ha fatto il miracolo. C'è la Reggiana, c'è il profumo di B ed è la categoria che hai fatto fino a poco fa a Vicenza. Ti chiedo subito che partita ti aspetti al MAPEI? Mi aspetto una partita dove dovremmo essere concentrati al 100%, perché anche come me ne ricordo io loro piace giocare la palla a terra, piace essere belli, quindi non dobbiamo concedere nessuno spazio perché penso che non sprecano niente loro, quindi concedere il meno possibile, tenere botta e sfruttare tutte le occasioni che ci daranno. Ti chiedo un'ultima cosa perché Auteri ha detto qui da noi in postazione, molti giocatori erano stanchi e abbiamo fatto turnover, però poi Auteri è uno che guarda molto quello che si fa la domenica in campo, prestazione importante, gol, a questo punto la maglia da titolare vuoi tenertela stretta? Io mi metto sempre a disposizione, spero sicuramente di giocare il più possibile, facendo questo tipo di prestazioni, spero di far vedere al mister che ci tengo a giocare a titolare e poi le scelte le prende sempre lui, mi metto a disposizione.